Oggi sviluppare il Paese significa mettere al centro dell'agenda politica i temi dell'istruzione e della formazione. Noi come Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro proponiamo tre temi. Rafforzamento dell'orientamento, garantire la parità di accesso a partire dai più piccoli, quindi dalla scuola dell'infanzia e dal rafforzamento poi invece dei più grandi, cioè la filiera dell'istruzione e formazione professionale e poi il tema molto importante della formazione permanente, cioè di rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente e soprattutto alla luce di quelle che sono le sfide che oggi il lavoro deve affrontare. Una formazione permanente che riqualifica e restituisce competenze in un quadro di invece un mercato del lavoro che cambia rapidamente. Crediamo che questi siano temi sui quali il Ministro, il Governo, la politica si devono cimentare perché sono i problemi reali e i bisogni del Paese. Per alcuni di questi temi proveremo a declinare alcune piccole proposte di legge perché in realtà in alcuni casi penso alla formazione permanente, la legge c'è già il problema che non è resa esigibile. Per altri proveremo e continueremo a rafforzare anche il confronto istituzionale che crediamo è importante. Tra l'altro il CNEL come casa della partecipazione produce anche punti di condivisione anche tra associazioni che sono molto distanti e hanno interessi completamente diversi tra di loro. Ma il fatto che siamo riusciti a condividere un documento che ha queste caratteristiche credo che segnali quanto sia importante ma soprattutto quanto sia sentito sia dalle associazioni datoriali che dalle organizzazioni sindacali oggi rimettere al centro dell'intervento e degli investimenti del Governo una strategia nazionale sui temi dell'istruzione e della formazione.